Black Bay 58, un orologio da polso di classe e prestigio. Il Black Bay 58 è una celebrazione dell'orologeria classica con un tocco moderno. Con un diametro della cassa di 39 mm, questo orologio richiama lo stile degli orologi da immersione degli anni 50, rievocando un'epoca di avventure sottomarine e di esplorazioni. Il nome del Black Bay 58 è un omaggio all'anno 1958, quando venne prodotto il primo orologio subacqueo impermeabile di Tudor. La lunetta girevole unidirezionale in alluminio, con una scala dei minuti graduata, è un omaggio agli orologi da immersione vintage, mentre la corona a vite contribuisce alla resistenza all'acqua fino a 200 metri di profondità. Il quadrante disponibile in nero opaco, verde, grigio o marrone a seconda della versione, con i suoi indici luminescenti e le lancette Snowflake, rende la lettura del tempo in qualsiasi condizione di illuminazione un'esperienza semplice ed elegante. Tra le molteplici versioni del Tudor Black Bay 58 si trovano anche versioni particolari e uniche, tra cui la versione realizzata completamente in bronzo. La versatilità del Black Bay 58 è data anche dalle varietà di cinturini alla quale viene abbinato. Il cinturino può essere in acciaio inossidabile, oro o persino in bronzo, a seconda della versione, con una chiusura pieghevole e una fibbia di sicurezza, oppure in tessuto, con una striscia argentata o dorata che richiama il colore della cassa. Altrimenti è abbinato anche a un cinturino dal tessuto particolare chiamato Soft Touch, famoso per la sua morbidezza e comodità. Ma il vero cuore del Black Bay 58 è il suo movimento meccanico a carica automatica, il calibro MT5402, che garantisce una precisione eccezionale e una riserva di carica di circa 70 ore. Questo movimento, certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, è dotato di una spirale in silicio, che lo rende resistente ai campi magnetici e alle variazioni di temperatura. Inoltre, il movimento è regolabile in sei posizioni, per assicurare una maggiore stabilità e affidabilità. Nel 2020, il Black Bay 58 ha ricevuto il premio Challenge Watch Prize, con la versione Nevi Blu, al prestigioso Grand Prix d'Orlogerie de Genève. La versione Nevi Blu del Black Bay 58 si caratterizza per il suo colore blu intenso, che ricorda il mare e le profondità marine. Il blu è presente sulla lunetta girevole unidirezionale in alluminio, sul quadrante opaco e sul cinturino in acciaio. Il contrasto con gli indici e le lancette luminescenti in bianco crea un effetto visivo armonioso e raffinato. Il suo premio al GPHG conferma la maestria orologera dietro il modello e ne sottolinea l'importanza nel panorama dell'orologeria di alta classe. Grazie a tutti.